Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Allora, sono andata a fare la spesa 5 minuti fa, cioè sono tornata 5 minuti fa a casa, ho approfittato, sono passata anche a cambiare una lampadina della macchina e poi sono andata al supermercato a fare la spesa. Sono andata al Conad, diciamo che la roba che mi mancava non era poi così tanta e infatti ho fatto una spesa di 34 euro. Vediamo subito cosa ho comprato perché almeno poi vado a sistemare la roba di frigo, di congelatore. Prima però, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel pollice in su. Allora, prima busta, io pesco a caso. Ok, prima busta gli immancabili cereali, quelli della Conad sono quelli che io preferisco in assoluto a tutti i supermercati, proprio mi piacciono veramente tanto. Questi in particolare sono fiocchi di riso e frumento integrale, sono super buoni. Per chi fosse goloso c'è anche ovviamente la versione anche con gocce di cioccolato. Poi ho preso il pollo. Io mangio tanto pollo, questa è la versione conveniente. Sono 501 grammi, 4,41 euro, carne italiana. Insomma, come offerta è molto buona. Poi ho preso il pesce che mangio solamente io e ho preso questo pesce fresco qui, che sono strisce di totano decongelato. Sono 460 grammi e sono costati 4,09 euro. Le mangerò stasera e credo che me le preparerò anche domani. Le mangerò più o meno 200 grammi stasera, 200 grammi domani. Le avevo già assaggiate e buone. Poi ho preso l'insalata, ho preso questa qui, cuore di iceberg. A 1,80 euro più o meno. Ho preso queste mini carote, qui, biologiche. Apri e gusta. Praticamente anche queste le ho mangiate sbagliate volte. Le uso come snack per mangiare un qualcosa di sano, che riempie. Sono carote già pulite e sono pronte così all'uso. Fine della prima busta. Ho comprato pane per i tossi integrali, ne consumiamo tantissimo. Mi sembra di averne presi due. Ora, in questa busta ce n'è solamente uno. Comunque vengono 78 centesimi, quindi super offerta. E tra l'altro sono anche buoni. Sono presa un sacchie bon, questi qui di pollo. Ho provato anche quelli neri, ma sinceramente non mi sono piaciuti per niente. Invece questi della Star costano meno e secondo me sono molto più buoni. Poi, sono curiosa di provare questi due prodottini che ho preso. Allora, questo prodotto qui, detersivo per i piatti. Formula Cancello Dori con melaceto della Rio. Non l'avevo mai provato. Costa 1,09 euro, sicuramente non è il più conveniente. Sono 800 ml. Tra l'altro è anche abbastanza appiccicoso. Mani morbide. Vabbè, ok. Non è la formula concentrata, però insomma ero curiosa di provarlo. Come ero curiosa di provare questo Dash qui? È il nuovo packaging. Non so sinceramente se è cambiato oltre al packaging anche la formulazione. Era sconto 2,45 euro e sono 23 lavaggi. Come sconto devo dire sinceramente buono, nel senso che di solito il Dash si trova, quando è a sconto, un pochino più caro. Impeccabile contro le macchie, anche a basse temperature. Questa è la versione classica, 100% bottiglie e tappo riciclati. Boh, anzi, fatemi sentire l'odore, che non l'ho sentito. Che buono! Comunque profuma come tutti i Dash. Ho preso a 1,90 euro la cartigenica, ho preso questi qui, 4 maxi rotoli, buona. Poi ho preso l'acqua. Ultima busta. Comunque per aver speso 34 euro, aver comprato anche comunque sia carne, pesce, quindi insomma sono cose che oggettivamente costano, diciamo che è stata una buona spesa. Anche perché trovo sinceramente che la Conad in questo momento, già da un po', è il mio supermercato in assoluto preferito. Perché puoi trovare le marche, rispetto a un Euro Spin, che comunque le marche non ci sono, e i prezzi sia dei brand Conad, sia di tutti gli altri brand, sono sempre bassi e scontati, dunque sono davvero bassi e fissi, piuttosto rispetto anche all'S lunga, che almeno dalle mie parti ha aumentato i prezzi tantissimo. E comunque la qualità, secondo me, è buonissima, di tutti i prodotti marchio Conad, anche la carne, il pesce, sono veramente qualitativamente buoni. Piccola parentesi. Ecco l'altro panino che vi dicevo. Poi ho comprato 2,98 euro le noci, sono questi qui, 500 grammi, ultimamente ne mangio spesso. Ho preso questo, in realtà ne ho preso anche un altro che non trovo, di un'altra marca, ma siccome il mio gatto ha subito il favorito, non l'ho qui per farvelo vedere. Comunque questi qui, che sono snack croccanti e ripieni di formaggio, ho preso anche 12 bastoncini, 100% filetto di merluzzo, sono soffritti, sì, cioè sono fritti, sì, però vabbè ogni tanto quando magari sono di fretta, in realtà era tipo, credo 5 anni che non le mangiassi, però ho fatto questa eccezione. Ho preso come snack 1,98 euro, sono 6 pezzi, quindi non è il massimo della convenienza, della Biraghi, questi pezzettini di formaggio incartati, appunto per fare gli snack. Cioccolata fondente, era sconto, ha 1,60 euro, questa qui della Nuovi, 75%, ultimamente come spuntini uso molto le noci, il cioccolato fondente, ora appunto ho preso il formaggio, le carotine. Ultimo prodotto, ho preso il prosciutto cotto a cubetti. Ok, il video è terminato, la spesa è finita, la vado subito a rimettere a posto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!